buona sera ragazzia e ragazze ragazzi e ragazzi ecco arrivato qua il master dei giochi ma ragazzi ma questo brawler fa schifo parla come carte ragazzi vi faccio vedere come si gioca a benvenuti oggi sono anche io molto arrabbiato come dice pepe oggi perché sono straniero oggi vi dimostrerò come si gioca ma perché mi dicono va via io vado in porta ragazzi mi insegnerò come si va in porta ma cosa fanno ragazze ragazzi 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 ci uccideranno no ragazzi abbiamo vinto non guardate le coppie non guardatele per favore abbiamo vinto 30.000 coppie o forse 30.000 coppie ronuzione abbiamo vinto racconto io non sono troppo agitato come ho visto la partita prima come lo spacco e max ragazzi ragazzi ma se no si muove sto qua è la madonna e la pippa ragazzi 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 rag Ragazzi abbiamo comunque vinto anche questa Non guardate niente Avete visto come si gioca a Brawl Stars? Si gioca con E questo è il Brawl Stars E' molto bello vero? Fa anche un po' schifo No è bellissimo il Brawl Stars Ecco qua cosa succede quando Oh bello Ragazzi sto bando ok Sto internet l'abbiamo pagato Ce l'abbiamo fatto Ci siamo e ce l'abbiamo Ci sei Avete visto che è la kill Che kill Che fortuna che ho Avete visto eh Ecco come si gioca a Brawl Stars Quando la gente non sa giocare Avete visto quante coppe che ho? Avete visto quante coppe? Avete visto quante coppe? Benvenuti 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 oh conti che sono la bella ragazzi avete visto? avete visto come vuole che vuole questa? ci siamo e ci facciamo ma dai ma hai messo la cosa più se risolve la situazione rock ci siamo e ci facciamo che l'altra volta li facevo a me che c'è da me sono delle belle vi fa si fa il gol Dai, fai stupendo, fai stupendo, fai stupendo fai stupendo ma qua a ma è fai stupendo mi fai stupendo non l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto paura che prende va Abbiamo vinto e ci balliamo Abbiamo vinto e siamo tutti felici Siamo felici per anche voi Noi siamo dei fortunati Siamo tutti tutti Non sono preferito di tutti E la pepina mi apre una cassa Quanto emozione vi ha Supportatemi ragazzi sto like Lasciate sto like se non l'avete fatto Se no non avrete neanche un brawler Non avrete nessun brawler Ve lo dico io Se lasciate sto like avrete brawler per la vita Ora prosta cassa Sono troppo emozionato Voi non potete vederlo ma io sto pazzo Ragazzi lasciate stare se non ho trovato un brawler Voi troverete un brawler Yeah Almeno voi Io sono felice per voi Lasciate Io sono felice per voi Io non sono felice per me stessa Sono felice per voi E ora Facchiamolo alle benzi So che è qua So che sei qua Ma va Non avrete un brawler E la ragione è bulla Devemmo combattere fuori E' questo E' la E' la Eeeh Cos'è? C'è li abbiamo proprio sfasciati E' la eh Questa cosa cosa? Non è mai il tutto nella mente Blue Star Ecco? 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 No 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 Oh Che fortuna Che abbiamo avuto Ma perché non avevo avuto così fortuna? Ok Ma hai visto? Forse avete lasciato questo like credo Avete lasciato il like? Wow Eeeh Non l'avete lasciato Non l'avete lasciato Non l'avete lasciato Ho visto? Non l'avete lasciato E non l'avete lasciato E so che non l'avete lasciato Io lo so eh Non l'avete lasciato Ma questo tica ha rotto Tica hai rotto Hai rotto No! Faceva sto gol Cazzo Oh 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 No! 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 Bo! Per favore vinciamo la nostra partita Eh. Dobbiamo vincerla, sennò tu piangi e cadi a terra, non è colpa mia, eh? Oh, chi è che non sta disposto? Ma chi è che è arrabbiato con noi? Sto ti... Tu sei troppo serio, oh! Oh, non vinceremo... Ma noi funzioniamo... Che vinceremo sta partita, li crederò. Li chiedo a Bo se vinceremo sta partita, perché Bo mi risponde. Perché combatti per tu stesso? Non combatti anche per me? Vai! Oh, parla, rispondimi! So che prima mi stai rispondendo, ma cosa faccio? Eh, là! Ci rispacco, ci rispacco, ci rispacco. Ci rispacco! Lui! 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 E ora l'ora! Lui! vinceremo sta partita wow mi rispondi lo so che mi rispondevi vinceremo sta partita grazie grazie almeno vinceremo sta partita della madonna questa partita è molto dura vero bo è dura cioè voi non potete sentirlo ma bo bo questo brawler che ho usato ora bo mi stava rispondendo io gli ho chiesto combattere per me stesso e io adesso perché combatti per te stesso perché lo ridice deve combattere anche per me mi parlo cioè come se io sto parlando con voi ma sto parlando con bo scusatemi però non c'è vinceremo ah sei concentrato combattere per te stesso vero 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 I am guided by the spirits Vai via questo spirito, ancora una bella Aspetta, aspetta, lì rispondo quando è in partita Perché qua quando è attuale mi posso spingere Hai ragione, dovremmo combattere per questo Boh, tu secondo te sei forte? Non mi esconde Boh, sei forte?